Dando le risposte, infatti penso che la grande crisi all'interno del PD sia proprio quello che dopo Trump, dopo la Brexit, si trovano. Una parte di loro vuol dare delle risposte più vicine a quelle che possono essere nell'ambito, per me non esiste più, però del centrodestra. E una parte invece che dice che per dare le risposte dobbiamo rispostarci verso sinistra. E questo è il vero problema, io lo vedo anche a livello locale. Ci sono proprio due, se non tre o anche di più, anime all'interno del PD che tirano da una parte o dall'altra. Cioè il Renzi erede di Berlusconi da una parte. Perché fanno male sia una cosa che l'altra. E in questa crisi di cercare di avere voti o di assecondare comunque delle esigenze di una parte dei cittadini o degli altri, non portano a casa niente, non fanno niente, creano più confusione. Siamo ancora qua a parlare della legge elettorale dopo tantissimi mesi. La gente è sempre più arrabbiata perché vuole giustamente delle risposte. Abbiamo i dati sull'occupazione che sono chiari a tutti. Qua abbiamo alla fine trasformato il tempo indeterminato in realtà a tantissimi tempi determinati. La gente può essere mandata a casa in qualunque momento, non c'è più la sicurezza. Perché quello che dicevamo dei giovani, lo dicevi tu, è giustissimo. Perché i giovani fino a 5-10 anni fa avevano una prospettiva di sperare nel futuro. Noi gli stiamo togliendo questa speranza. Poi ce n'è qualcuno fortunato che ha l'idea giusta. Magari ha anche i genitori che possono aiutarlo a sviluppare le sue idee. O si trova nel posto giusto, al momento giusto, riesce ad andare avanti. Gli altri sono costretti a fuggire magari in altri stati dove vanno a fare il lavapiatti.